Musica Bentornato Goodlier, bentornata Andiamo a terminare la criptografia unità Bitlogger Dopo aver capito come funziona la criptografia Vediamo l'uso Come si avvia innanzitutto Accedi naturalmente al pannello di controllo Individua il pulsante Criptografia unità Bitlogger E cliccaci sopra Una maschera tipo questa Si presenterà a te Nella quale potrai vedere la lista delle partizioni E accanto ad ognuna Il pulsante attiva Bitlogger Se già naturalmente non hai realizzato la criptografia Laddove invece la criptografia sarà realizzata Troverai questo simbolo Accanto alla scritta attivato E due pulsanti anziché attiva Bitlogger Disattiva criptografia oppure gestisci la stessa Cliccando naturalmente sopra il pulsante attiva Bitlogger Inizierà la procedura per realizzare la cifratura di tutta la partizione Ricorda questa caratteristica Non andrai a criptografare i soli file e cartelle Ma tutta la partizione o il disco rigido Già nelle primissime schermate potrai decidere che tipo di sblocco utilizzare Dopo averla criptografata questa partizione Potrai scegliere di utilizzare una password Per sbloccare questa partizione E quindi scriverai la password che meglio crederai opportuna Oppure aggiungere Qualora il tuo pc fosse anche in grado di poter leggere un smart card Quindi se è dotato di un lettore di schede Potrai anche aggiungere questa caratteristica Questa possibilità di sbloccare l'unità che avrai criptografato Dopodiché potrai anche selezionare il pulsante avanti Per poter continuare nella criptografia Durante il processo verrà generata anche una chiave di ripristino Della criptografia Pitlogger Che è univoca Ossia dedicata per questa specifica criptografia Potrai salvarla su una periferica O disco rimovibile O anche all'interno del disco rigido normale del tuo pc Cosa ti servirà questa chiave di ripristino? Servirà per risolvere eventuali problemi Riguardo lo sblocco dell'unità E poter accedere nuovamente al suo contenuto La chiave di ripristino si configura come un file Che ha un'estensione .txt Che è quindi visionabile tramite il blocco note di Windows All'interno di questa chiave Troverai scritta in formato alfanumerico La chiave vera e propria E l'identificazione della chiave di ripristino L'identificazione potrà essere completo o parziale In realtà ti renderai conto che all'interno di questo file Troverai l'identificazione della chiave di ripristino parziale o totale Che puoi ben vedere è una parte Quella parziale di quella totale E ti può essere richiesta in fase di ripristino In maniera parziale oppure completa La chiave di ripristino è ben più lunga E qui riportata nell'esempio con questo codice Il senso della sua necessità della identificazione È che prima di dover digitare la chiave di ripristino Dovai verificare che sia effettivamente correlata A quella determinata criptografia Dato che naturalmente è specifica per quella cifratura Che l'ha generata Proprio per il fatto che ogni criptografia è ben diversa dalle altre Questo per evitare che venga creata una chiave di ripristino universale Valida per tutti i tipi di criptografia In fase di ripristino ti verrà mostrata La chiave di identificazione parziale o totale Che dovrai confrontare con quella in tuo possesso Ed inserire successivamente la chiave di ripristino nel campo relativo Così facendo in caso di esito favorevole Potrai riaccedere alla partizione disco Dopo che avrai superato i problemi Tornando alla criptografia Durante la procedura dovrai impostare questi parametri Si avvierà appunto la criptografia La cui durata può essere variabile in base alle dimensioni della partizione E al termine riavviando il computer Avrai mostrati gli effetti della criptografia BitLocker Ossia ti sarà impossibile accedere alla partizione al disco rigido criptografato Tramite esplora risorse Tentando infatti di accedere a questa partizione Avrai in risposta un accesso negato Cosa dovrai fare? Naturalmente a questo punto dovrai cliccare con il pulsante destro Sull'unità criptografata ed individuare il pulsante sblocca unità Dopo averlo selezionato In base al metodo di sblocco scelto in fase di criptografia Potrai ad esempio inserire la password Oppure il PIN tramite la smart card Quindi in base a quello che sceglierai in fase di creazione Se corretti dopo questo inserimento Potrai liberamente accedere al contenuto Per tutta la durata della specifica sessione di lavoro Significa che al riavvio del sistema operativo Quella partizione tornerà di nuovo inaccessibile E dovrai comunque inserire di nuovo i parametri Per sbloccare la partizione Se non ricordi la password Oppure non hai a disposizione la smart card Qualora l'avessi impostata Avvierai come detto la procedura di ripristino E grazie al pulsante password dimenticata Presente nella schermata di inserimento Potrai recuperare l'accesso alla partizione Nella nuova finestra infatti dovrai inserire La chiave di ripristino Dopo averla identificata E solo così Solo a questo punto Potrai di nuovo accedere alla partizione Potrai decidere in ogni momento Di amministrare i parametri di crittografia Tramite il pulsante gestione BitLocker Che è presente in questa schermata principale Ma anche con il menu che si genera Tramite il pulsante testo del mouse Sulla partizione crittografata Avrai la possibilità di cambiare O rimuovere la password Disattivare completamente La funzionalità di crittografia BitLocker Decrittografando la partizione disco rinno Inserire un ulteriore ostacolo Alla consultazione Introducendo anche la smart card Se l'hai come optional All'interno del tuo computer Una volta sbloccata la partizione disco Potrai agire in essa Come se non fosse mai stata crittografata Per cui potrai visionare i file Aggiungerli, rimuovere Sia essi che le cartelle in essa contenuta A riavvio noterai sempre la crittografia A prescindere dai file o cartelle Che avrai inserito o rimosso Finché deciderai di disattivare La funzionalità BitLocker Una volta che hai sbloccato la partizione disco rigido I file e cartelle che sposterai Da questa partizione Oppure copierai in altra partizione Quindi su altre periferiche non crittografate Naturalmente non saranno questi file e cartelle Crittografati Proprio perché la crittografia agisce solo sulla partizione Sul disco e non sul contenuto Lo sblocco dell'unità può avvenire anche automaticamente Senza inserire password Ma il requisito essenziale è che Anche la partizione dove hai installato il sistema operativo Sia crittografata A meno che tu non decida di sbloccare automaticamente Una periferica USB Infatti è possibile anche crittografare dispositivi Di memoria rimovibile esterni Con una funzionalità che è chiamata semplicemente BitLocker2Go Simile alla procedura per le periferiche fisse Il vantaggio di crittografare una periferica USB È che hai margini di sicurezza elevati Per i dati contenuti in essa In caso di furto o perdita di possesso Infatti Potrai dispiacerti forse Della perdita dei file in essa contenuti Ma se la tua metodologia d'uso Dei dispositivi immobili Prevede n copie di backup Non avrai che seccarti soltanto Per il mero valore economico Della pennetta E quindi direi Proprio un bel nulla Per i file contenuti Potrai stare abbastanza tranquillo Perché sarà molto difficile leggerli Quindi anche se dovesse contenere la pennetta Dei dati molto molto importanti Questo perché Inserendo la stessa Nei vari computer Che hanno installato un sistema operativo Che non supporta la funzionalità di crittografia BitLocker Non ti verrà letta Oppure verrà rilevata Dalla necessità di formatare il dispositivo Perché è impossibile la sua lettura Vedi ad esempio XP Se invece La funzionalità BitLocker È supportata dal sistema operativo Come Windows 7 All'atto dell'inserimento Della periferica del PC Ti sarà richiesta la puzzle E se l'hai resa compressa L'utente Che troverà eventualmente La tua periferica USB Per poterla utilizzare Non gli resterà che formattare Il dispositivo Senza poter leggere opportunamente i dati Termino questa lezione Sottolineando proprio che L'azione drastica Della formattazione O la rimozione della partizione Rimuove in toto La crittografia Andiamo a vedere come crittografare Un'unità disco rigido O partizione Clicca sul pulsante Start Successivamente Sul pannello di controllo E vai ad individuare Il pulsante Crittografia Unità BitLocker E cliccaci sopra Nella schermata che si apre Avrai in visione Le partizioni presenti All'interno del tuo disco rigido Eventualmente anche periferiche USB Se le hai collegate Dove trovi scritto inattivo Significa che non è stata attivata La crittografia Clicchiamo su Attiva BitLocker Per questa unità di prova E avviamo la procedura Alla prima schermata Possiamo decidere Il metodo di sblocco dell'unità Cliccando su Usa Password Potrai digitare La password Una volta E una seconda volta Per la conferma E terminare eventualmente Anche così Per lo sblocco Oppure Utilizzare Qualora fosse Disponibile Questa opportunità La smart card Per sbloccare L'unità Se è presente Nel tuo computer O infine Per alcune possibilità Anche sbloccare Automaticamente L'unità Nel computer In uso Dopo aver scelto Clicca su Avanti In questa fase Potrai decidere Dove salvare La chiave di ripristino O su unità flash Oppure In un file All'interno del computer Oppure stamparla Selezioniamo Selezioniamo Salva la chiave di ripristino In unità flash Sia pennetta USB Se eventualmente Può esserti utile Questo se hai dimenticato La password O smarrisci La smart card Per poter accedere Di nuovo Alla partizione È consigliabile Stampare Stampare O scrivere Da qualche parte L'unità In questo esempio Scelgo di salvare La chiave di ripristino Su una pen drive E cliccando Su questo pulsante Mi comparirà La schermata Dove poter Ovviamente Selezionare La pen drive In quanto È già individuata Clicca su Salva E verrà Memorizzata In maniera automatica Sulla pen drive Successivamente Ti verrà ricordato Che potrai Procedere con la criptografia Da questo punto Sarà possibile Sbloccarla Utilizzando una password La criptografia Potrà richiedere Molto tempo Se le dimensioni Dell'unità Sono ampie E fino al termine I file Non saranno protetti Avvia la criptografia Per procedere Alla criptografia Scusa La ripetizione Della partizione Del disco rigido E attendiamo Che abbia termine Puoi sempre chiudere In qualsiasi momento La criptografia Ma naturalmente Non verrà portata A termine La cifratura Della partizione Per ovvie ragioni Didattiche Ritorno In fase di montaggio Questo tempo Quando la criptografia Sarà terminata Cliccando sul pulsante Chiudi Se tutto funziona Correttamente Avrai Il referto positivo Della criptografia E naturalmente Troverai Sull'icona Della partizione Un lucchetto Con la scritta Attivato Potrai disattivare O gestire La criptografia Come meglio credi Disattivandola Rimuoverai La criptografia Oppure gestendo La criptografia Bitlogger Potrai Modificare Password Per sbloccare Unità Rimuovere La stessa O eventualmente Aggiungere Una smart card Per lo sblocco Salvare o stampare Di nuovo La chiave di ripristino O sbloccare Automaticamente L'unità Ora vado a salvare Di nuovo La chiave di ripristino In un'altra posizione Per sicurezza E lo salverò In un file All'interno Del computer Scegliendo O un'altra partizione O il desktop Come questo esempio Potrai anche Rinominare la chiave Per ricordarla meglio Dopodiché Comunque Clicca su salva Dopo aver individuato La posizione La procedura Ti ricorderà Naturalmente Che è bene Salvare Una chiave Di ripristino In un posto Sicuro Per evitare Accessi indesiderati Clicca su Si per terminare Questa ulteriore Procedura E infine Poi selezionare In questa schermata Su avanti Dopo che Avrai verificato Che sia stata salvata La chiave di ripristino Ora qui Clicchiamo su Chiudi Per terminare La gestione Della cifratura Ora chiudiamo Questa finestra Poi visionare Tranquillamente Dove ho ubicato La chiave di ripristino Sul desktop Ma andiamo a Riavviare Il sistema operativo Per vedere Gli effetti Della Crittografia Bitlogger Attendiamo Attendiamo Il tempo necessario All'arresto E Il riavvio Del sistema operativo Al riavvio Andiamo ad individuare Innanzitutto Come utilizzare La chiave di ripristino Clicchiamo Sull'icona Della chiave Di ripristino E andiamo a Visionare Il contenuto Come puoi vedere È un file Testo A cui Interno Trovi La chiave Di ripristino E ti viene spiegato A cosa serve Troverai L'identificazione Della chiave di ripristino Parziale E come puoi vedere È una parte Di quella Completa Questa servirà Ad identificare La chiave di ripristino Naturalmente La chiave di ripristino La trovi Nell'ultima riga È quella Che dovrai Digitare Dopo averla Identificata Eseguiamo Un copia Che potrà Tornarci utile In seguito Chiudiamo Pure Questa Schermata E andiamo A visionare La partizione Crittografata Abbiamo Esplora Risorse Ora Tenterò Di accedere Alla partizione Crittografata Qui evidenziata Con la lettera G E noteremo Che il sistema operativo Ci notifica L'impossibilità Di accedere Non avendo Le credenziali Clicchiamo Su ok E Sulla partizione Crittografata Cliccando Con il pulsante Destro Al menu Che si genera Clicca sul pulsante Sblocca Unità Nel campo relativo Dovrai digitare La password Che avrai Inserito In fase Di creazione Della Crittografia E poi Cliccare sul pulsante Sblocca Simuliamo ora Di aver dimenticato La password Clicchiamo sul pulsante Password Dimenticata E accedi Alla procedura Di ripristino Della partizione Tramite chiave Di ripristino C'è una descrizione Di Quando utilizzare E per quale motivo Utilizzare La chiave Di ripristino E' riportato Anche Il codice Alfa numerico Per identificare La chiave Di ripristino In questo caso Parziale Che andiamo A vedere In base a quella Che avevamo Precedentemente Memorizzato E' proprio Una parte Della stessa Quindi Chiave di ripristino Correttamente Identificato Potrai decidere Di recuperare La chiave La chiave Dall'unità USB Oppure digitarla Tramite la tastiera Clicchiamo su Digita La chiave Di ripristino E quindi Andiamo ad inserire Nel campo Operativo Con il tasto Destro Incolla In quanto Avevamo Precentemente Copiato La chiave Per avviare Ripristino Clicca su Avanti Ma noi Annulliamo Perché Optiamo anche Per l'altra Possibilità Ossia Recuperare In maniera Automatica Tramite USB Quindi Sblocchiamo Di nuovo L'unità E andiamo A recuperare La chiave Di ripristino In maniera Automatica Tramite Pendrive Clicchiamo Su questo Pulsante E automaticamente Dopo aver Selezionato Quale Periferica USB Contiene La chiave Di ripristino Cliccando su Avanti Si avvierà In maniera Automatica La procedura Di sblocco E ora Naturalmente Disponibile L'accesso Temporaneo Fino al Nuovo Riavvio E quindi Possiamo Liberamente Visionare Quel che è Contenuto All'interno Della partizione Cliccando su Fine Potremo Finalmente Accedere Alla partizione E al suo Contenuto Una volta Sbloccata L'unità Potremmo Gestirla Come se non fosse Mai Crittografata Quindi Copia E incollare File E cartelle Dall'esterno Verso l'interno O viceversa Simuliamo Adesso Il copia E incolla Di un file Immagine Da un'altra Periferica E inseriamola Nella Periferica Crittografata Tornando Alla schermata Principale Andiamo A gestire Gli altri Parametri Quindi Clicchiamo Su Gestione Bitlogger Potrai Modificare La password Per lo sblocco Rimuovere La stessa Aggiungere Una smart card Per sbloccarla Salvare O stampare Di nuovo La chiave O sbloccare Automaticamente L'unità Proviamo A rimuovere La password Il sistema Ci notifica Che è l'unico Modo Per proteggere La partizione Per cui E' necessario Prima Aggiungere Qualc'altro Metodo Quindi Clicchiamo Su Ok E passiamo Avanti Proviamo a sbloccare Automaticamente Tra l'unità Ma in questo caso Ci allerta Ulteriormente Che anche La partizione Dove è presente Il sistema operativo Deve essere protetta Da Bitlogger A meno che Non parliamo Di pendrive USB Potremmo Disattivare La criptografia Questo comporterà La possibilità Di non aver più Tutelati I file Contenuti All'interno Della partizione Possiamo Monitorare L'operazione Clicchiamo Su Decriptografia Unità Per avviare Questo processo Possiamo Tenerlo Sott'occhio Per tutta La durata Ricordo Che il tempo Varia in base Alla corposità Alla dimensione Della partizione E anche In questo caso Riturrò il tempo In fase di montaggio Al termine Della decriptografia Ovviamente I dati Non saranno Più protetti Terminato Clicca Su Chiudi E Andando a visionare La partizione Tramite Esplora Risorse Noteremo La piena libertà Di accedere Alla partizione In essere Infatti Non noteremo Alcuna impossibilità Alcun blocco Da parte del sistema operativo Andiamo ora a vedere Come criptografare Una periferica USB Clicchia su Start Su pannello Di controllo E vai ad individuare Criptografia Unità Bitlogger Cliccaci sopra Nella schermata Troverai le varie partizioni In particolar modo La penna USB In questo caso Clicca su Attiva Bitlogger Per iniziare la procedura In questa schermata Puoi selezionare Come criptografare Intanto Puoi decidere Di inserire Una password Di lunghezza Variabile E dovrai anche Ripeterla Servirà per sbloccare La periferica Oppure puoi inserire Una smart card E digitare un PIN Quando ti verrà Richiesto Clicca su Avanti Per proseguire Nella criptografia Dopo aver digitato La password A questo punto Potrai decidere Dove salvare La chiave Di ripristino Oppure stamparla La chiave Di ripristino Come detto Ti servirà Per accedere Nuovamente Alla partizione O al disco Rigido Qualora ti fossi Dimenticato La password Di accesso Quindi Seleziona Salva La chiave Di ripristino In un file E vai a Memorizzare La chiave Di ripristino Che è un formato TXT Dove meglio Credi In questo caso Simuliamo Il desktop Dopo aver selezionato Naturalmente il desktop Puoi anche cambiare Il nome Per migliorare La lettura O recupero Della stessa Dopodiché Clicca su Salva E poi su Avanti Avrà la notifica Che dovrai utilizzare La password Per accedere La criptografia Avrà una durata Variabile In base alla dimensione Della partizione E i file Non saranno protetti Finché Non è terminata La criptografia Dopodiché Inizierà La procedura Di criptografia Come detto Che avrà Un tempo Variabile Da pochi minuti Anche a molti minuti Qualora Le dimensioni Della partizione Da criptografare Siano ampie Potrai anche Decidere Di sospendere La procedura Di criptografia Magari Riniziarla In seguito Però Durante Questa fase I file Non saranno Accessibili E fai attenzione A disabilitare Appunto Sospendere Prima di estrarre La periferica USB In quanto Potresti Danneggiare I file In essa Contenuti In fase di montaggio Accorcerò La durata Di questa Procedura E tu porterai A termine Con i tuoi tempi Naturalmente Al termine Avrai La notifica Di criptografia Completata Cliccando 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 sul pulsante Chiudi Potrai Terminare Questa Procedura Tramite Il pulsante Gestione Bitlogger Potrai variare Alcuni parametri Come Modificare La password Per sbloccare Rimuovere La password Aggiungere Una smart card Per sbloccare L'unità Salvare Di nuovo La chiave Di ripristino Oppure Sbloccare Automaticamente L'unità In questo Specifico Computer E non Sugli altri Puoi anche Naturalmente Disabilitarlo Una volta Che hai Deciso Di sbloccarlo E tornare A una condizione Di criptografia Chiudi Puri Per terminare La procedura Il pulsante Disattiva Bitlogger Rimuoverà La criptografia E tornerà A rendere Visibili File E cartelle Andiamo Pura a vedere Il contenuto Della pendrive Ho Un'unica Immagine Adesso Andando A rimuovere La pendrive Vedremo Che Successivamente Quando si Inserirà Di nuovo All'interno Del computer Verrà Richiesta La password Di accesso Ora Simulo Provo Appunto La rimozione E vado A reinserire La pendrive Ecco Che Mi viene Chiesta La password Per poter Accedere Andiamo A renderci Conto Delle impossibilità Di accedere Alla pendrive Vedi Ho Questo messaggio Di allerta Vado A digitare La password Che avevo Precedentemente Memorizzato E dopo aver Sbloccato La periferica Avrò Libero Accesso Di nuovo Al suo Contenuto Vado Ora A cambiare Alcuni Parametri Della Crittografia Unità Bitlogger Vado 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 Sbloccare Automaticamente L'unità Nel computer In questo Specifico Computer All'atto Dell'inserimento Infatti Rimuovendo La periferica Vado Ora A inserire Di nuovo La periferica All'interno Della porta USB E non Mi verrà Più Chiesta La password Per lo Sblocco Come puoi Vedere Ho libero Accesso Senza Aver Inserito La password Bene Nella prossima Lezione Scopriremo Una nuova Sezione Del pannello Di controllo Ora Un forte Saluto Ciao a presto Ragallo E alla prossima